Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! La versione estiva di Temptation Island 2024 sta per concludersi. Le ultime due puntate andranno in onda mercoledì 24 e giovedì 26 luglio, dopodiché Filippo Bisciglia tornerà a settembre con nuove coppie pronte a mettersi alla prova. Tra i partecipanti attuali ha destato grande attenzione Jenny Guardiano, fidanzata da 5 anni con Tony Renda. Oltre alla loro storia d'amore, la ragazza ha ricevuto molti apprezzamenti anche per la sua bellezza. Ma com'era prima della chirurgia? Su social media molti hanno condiviso foto o video di Jenny prima dell'intervento chirurgico. Effettivamente la differenza c'è ed è piuttosto evidente. Fino a poco tempo fa, Guardiano era di una bellezza disarmante, al 100% naturale. Oggi, invece, la protagonista di Temptation Island è sempre una ragazza splendida, ma leggermente artificiale. Guardando le immagini del prima e del dopo l'intervento, Jenny sembra leggermente diversa soprattutto sul viso. Probabilmente ha ritoccato labbra, zigomi e naso. Forse una volta lasciato Temptation Island, sarà lei stessa a parlare del suo caso.